ciacco 1 2 3 lezioni di chimica ad antonio vanna cosa ci insegna oggi antonio il bicarbonato con l'aceto con l'aceto quello bianco con l'aceto quello nero non quello balsamico cosa succede che cosa succederà sembra quasi assomiglia tanto un qualcosa dei crateri quasi come mai pericoloso devo stare un po lontano senza occhiali sei sicuro sprezzante frigge che è successo esce il debordamento un'eruzione vulcanica saluta i tuoi fans antonio ciao 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 ciao